Sono sempre io, buongiorno, io vi voglio dare un bel consiglio e ascoltatelo da vostro fan, il consiglio, perché è un consiglio onesto, sincero e bellissimo. Andate, sta vedendo carnevale, cercate di andare a tutta a ballare, a nagarevi le cule, perché la vita è breve, io che si cambia nell'anno, allora dici, non ci vai, è l'occasione per andare a divertirvi, seguite lo consiglio a me, io ti va a nagare lo cule perché è male, e poi voglio dare un altro consiglio alla gioventù, prendete la palla in basso, perché la gioventù non torna più, perché la gioventù, andate a ballare, e vi do un consiglio, appena siete a ballare, non facete i minchiati, un mi miacate, un minchiato di pinnoli, vado solo a divertire senza fare i minchiati, e vado a divertire, perché carnevale è la vostra occasione, lo capiste? Vi saluto, ciao, ciao, ciao.